Ciao a tutti ragazzi e finalmente dopo tantissimo tempo torniamo su Clash Royale Arena 7 da un po' che non ci vediamo ho trovato il deck divino ossia questo qui posso potenziarlo? Ah beh potenziamolo tanto come vedete ce l'ho in inglese perché una leggenda dice che si trovano puoi leggendare in lingua inglese dato che mi sta aggiornando la PS4 al sistema e non posso andare in inter e sono isolato dal mondo tanto ho detto avevo anche promesso uno spacchettamento dov'è 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 aspettate aspettate ecco baule magico domani faccio spacchettamento e infatti baule magico lo apriremo alla fine perché sennò non c'è neanche un po' di tensione e niente cominciamo no volevate 10.000 dopo cominciamo con quello ad argento classico e quello più scarso di Zeer cannone e una free chest chest poch che schifo vediamo un po' ora vi faccio sperimentare il mio grandissimo deck divino ossia ne l'ho sperimentato in un momento di crisi di crisi esistenziale perché non riuscivo più a vincere una allora eh pfff glielo fate fuori non male non male come inizio abbiamo fatto poco però in relatività a quello che abbiamo usato tac ci spera la cerce aveva sperato che peccato ora questo mi butti ma sei una pippa dai te lo butto giù con la torre inferno bravo vai sulla torre bravo che magari sto qua sto qua li girano e va su gigante la metto già adesso così non serve che butto la valchiria per la strega non è un problema eh via 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 è fatto gli sgherri no non conto nemmeno non li conto nemmeno gli sgherri dai ci vuol poco e valchiria tac ma le guardie sono forti non so mi dicono quanto costano se costano due tre magari potrebbero essere forti ma se no sono un po' devoluce ora butto il il domatore come cavallo di troia e dopo eh hai buttato via le sgherri stanzetto adesso diciamo già va la torre questo mi ha fottuto lo sapete mi ha fottuto ma sono un po' troppo avventato sono un po' troppo avventato lo so se mi butta 10 di l'isgherri dall'altra parte io non posso contrattaccare in nessun modo però intanto una torre gliel'ho buttata su butta 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 bravo sono più sono più cos'è che è arrivata così in ritardo avete visto non so cos'è quel wifi che non va boh e devo far corone qui devo far corone quindi mettiamo c'è va piuttosto a ridento non so perché non lo so però dopo però provo ad andare col 3g che magari dai gigante bravo bravo vieni stessa tattica non funziona con me oh 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 cavolo forse si forse si forse funziona forse funziona ma non si spererei più di tanto ecco qui è già mandata a monte tac ha fatto già in tempo rispondermi che gran peccato così quasi io gli faccio demolire la mia perché voglio avere l'altra corona se no qui 10 corone non le facciamo neanche in 6 episodi perché lo fa è stato istintivo è stato istintivo sabota vabbè lo lascio andare lo lascio andare lo lascio andare sì questa questa no quell'altra sì puoi anche buttarci l'ira di dio vai oppure dai che ce la facciamo in te ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio oh my fucking god I did it perché sto parlando in inglese sarà un sarà un come dire un effetto collaterale del baule d'oro non male ah pensavo free chest subito invece sta minchia subito qualcosa di utile niente ah gigante royale è vero non vi ho detto che l'ho trovato avevo trovato gigante royale che non so non l'ho mai usato l'ho trovato prima e l'orda di moschettieri ma ma io riesco a demolirla molto facilmente la l'orda di disgheri no l'orda di come si chiama l'orda di moschettieri io riesco a demolirla molto facilmente quindi mi sembra un po' il disegir buttato un po' tipo il pecca quello grande tanto lento e basta è andato un rinferno per sballotare mh mh beh non ci serve oh oh non servirà questo gran se cavolo no 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 il pecca no il pecca no questo qua è bravo ma solo perché è il mago di ghiaccio è una spina sul fianco il mago di ghiaccio avanti avanti più veloci cazzo e io come faccio ora e la torre è andata la torre è andata non so non so come gestirla quella dovrei imparare a gestire meglio ma vai giù che cavolo perché non mi ha premuto il tastino beh ci spero lo stesso ci spero lo stesso se butto da qui il mago di ghiaccio non vedo come potrebbe demolirmi ossia in tutti i modi valchiria moschettiere non vedo per quale motivo ma e allora sei veramente un test di beh no fa danno ad aria giusto fa danno ad aria beh dai dopo tutto sto tempo doveva aggrappare valchiria in attacco roba da non fare ma qui qui siamo ma siamo a livelli davvero disperati quindi va bene può andare bene tutto ora capite come devono dire un'orda di sgherri nope nope davvero davvero nope però un colpo me l'ha dato un colpo me l'ha dato dai fai fuori quella torre allora dato che molto probabilmente la seconda torre se la butterà giù ma giù in una facilità disumana io direi di puntare direttamente a quella del re o la terza torre come cavolo si chiama la torre divina la torre torre di babele quella quella no e la seconda torre è andata oh siamo sopravvissuti siamo ah ma scopri perché l'ho buttata lì se c'è già che va giù va bene il dubbio non è andata non è crollata e ma allora se deve avere degli stronzi eh tac come gestisco questa situazione non vedo soluzio ormai ormai non so neanche io cosa fare dico puntiamo puntiamo il minatore e hanno trovato il modo di fottermi però io ci butto l'armata di scheletri e ciao no qua così via e sono fregato ufficialmente ma io non ti lascerò la mia ultima corona non adesso ah 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 no aspetta ah 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 mi bannano mi bannano benissimo dico no eh ma perché senza undertale perché mi chiedi golem di ghiaccio se io non so nemmeno cosa sia il golem di ghiaccio il grande atteso come ciao dart dart sono negri ah siete in diretta che che entusiasmo diretta fatevi salutate che entusiasmo nel dire eh siete in diretta oh my fucking god bella tubo eh di scarico spero perché io adesso vado a suicidare vado a buttarmi giù dal cesso se ce la faccio ciao youtube hai capito youtube pagaci pagaci siamo in tre no quattro dove dove è mister L dove è mister L aspetta che lo inquadro inquadro eccolo qui e c'è anche lui adesso siamo in quattro su questo eh io sono il più forte io è il problema che ti guardano tipo tre persone io lui e e dardesop siamo in tre persone uno è andato via ha detto no fuck 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 you this apriamo infine questo gold fin qua c'era arrivato eh ennesimo gigante royale elizir collector cioè quello di elizir dai roba forte voglio no roba forte ho detto roba forte ho detto roba forte e va beh beh allora mi aspettavo di meglio però non fa schifo non capisco per te sei forte sei forte anche per le leggendarie però 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 no 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 ultima battaglia dopo vi faccio vedere la mossa più cazzuta che si possa fare vedo dei messaggi sento dei messaggi chi è youtube forse si che ore sono sono le tre quindi ho caricato un video si ne carico uno ogni 5 minuti battlefield ovviamente e se vi chiedete quale battlefield è questa questa registrazione in ritardo di un giorno quindi avete capito perché e vabbè ma però ma però ma però ma però ma ora capite voglio retrocedere voglio retrocedere se devo sempre perdere preferisco la retrocessione dai che va dai che va vai valchiria fatti strada tra i ne e maledì ma questo qua questo qua mirava mirava già e vabbè ma io non so cosa fare mi mettono una carta da schifo oppure se non mi esistisco male che è più probabile ah ho detto ah mio dio ora da di di cosa sono di barbari oh mio dio due colpi tabbia col moschettiere prendi la torre prendi bravo dai spara la torre no no lo scheletro no lo scheletro e vabbè valchiria 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 non credo che basterà non è bastato però la valchiria serve per per questo quindi stiamo giocando davvero non proprio male perché noi 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 diciamo ah mio dio che schifo però anche lui non è che ha tutta sta vita ferma questo io ti odio io ti odio guardalo però il principe è andato però il principe è andato lui io con tre di desire o forse cinque di desire gli ho buttato giù un'armata da otto otto di desire e con due di desire gli ho buttato giù un'armata da cinque di desire quindi e quindi me la sono giocata da schifo nope nope non mi butterei giù la torre me la butta giù me la butta giù me la butta giù che vita di vita bastarda no cheat mister l comunque dai dai butta giù la valchiria buttalo giù buttalo giù e allora sì e allora sì che siamo veramente fregati spiritelli del fuoco perché qualcosa dovranno fare dai eh però orda contro orda mi sa che vince l'orda non so quale cosa faccio ora minatore minatore oh mio dio quel principe perché quel principe non ah oh cavolo uno dai siamo una corona non non riuscirò a fare il baule della corona in questo episodio lo so già e lo sapete anche voi avanti avanti Savoia dai cavolo no no ce l'abbiamo ma perché perché deve fare il bastardo così fermo non ti avvicini un errore di calcolo stupido ma decisivo perché ormai mi sono mi sono dato la zappa sui piedi in tutti e due i piedi è questo il problema non solo uno tutti e due oh guardalo 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 è determinato andertegli fa una pipa sto qua no blocca e si funziona funzionerà si ha funzionato non proprio decisamente no in fallimentare addio addio ora so come si sentiva Hitler negli ultimi giorni esattamente così cazzo si abbiamo alla prima alla prima eravamo tutti determinati oh ce l'abbiamo fatta qui spacchiamo tutto si spacchiamo tutto un cosa dicevo già io ti adoro veramente ti batteva anche quando non ne avevo no no di fai un deck centro leggendare ok ok anche tu ovviamente aspetta metti il telefono in carica affatto vada vada spectei ah ho detto speciale che è che è sto speciale oh ah ah in live in live in live ah già non posso schippare in avanti ce la guardo ok guardiamoci un attimo commentiamo in diretta non proprio diretta perché il video esce dopo ma io commenterò io commenterò in diretta vediamo cosa fanno adesso credo che sono alla pari un senso ha subito un po' di più però 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 e ovviamente spiritello del ghiaccio non è servito a molto sarebbe servito se non ci fosse stata l'attore inferno che peccato ora ho buttato perché ho buttato il domatore lì sarà una scelta tattica non lo so sono più amati di me io non so sta roba qui l'attore inferno l'ha buttato anche lui però lui ha buttato la furia perché quindi potrebbe vedete chi usa la mia stessa tecnica ad artisopi cioè che cittacla akab eh sì ho usato a usare akab ossia claudio usa la mia stessa tecnica contro i barbari usa i spiritelli del fuoco quindi se la usa anche lui vuol dire che è efficace perché sì parla di fuoco parla di fuoco è da un po' che io non l'ho uso allora siamo a un punto morto però però sen si sta un po' riscattando o forse no dai il domatore è riuscito a ad abbatterlo però la valkyrie si sta avvicinando in modo critico e si è avvicinata troppo ora sì 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 la valkyrie sta facendo abbastanza sta facendo abbastanza danni le guardie si avvicinano con uno sguardo minaccioso e sono morte esattamente la stessa tattica di prima solo che stavolta solo che stavolta lo spirito del ghiaccio è forse servito forse un minimo ma ecco ora 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 vediamo un po' come va a finire torre inferno ovviamente sembra romperte scatole dai ok però il mini pecca io non lo uso più perché perché me lo buttano giù subito quindi non so non so direvi se è utile o meno i bambari sarebbero utili ma io non li uso perché costano troppo ok ora ce la sta facendo ce la sta facendo però sono sono un dannato punto morto però sta leggermente crollando dal punto di anzi no sta reggendo sta reggendo o forse ops non avevo contato gli scusi sta subendo sta subendo dove oh oh sta subendo no che ah però si è salvato senza anderti per poco ma si è salvato hmm avanti ecco 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 qua ha messo il domatore il domatore e la torre è andata ah no ci avevo la torre è andata o no si è andata allora sono stati alla pari però darti zoppi era era 9.1 mentre senza era 9 come valutazione ma allora arriviamo al punto cruciale della cosa epic chest 10.000 so che darti zoppi mi ha detto no io no non di nuovo dai no io no non ho tempo devo finirla in fretta comunque so che darti zoppi mi ha detto no non usarla però 10.000 la cesta leggendaria è a 500 gemme no a 10.000 monete quindi mi sono sbagliato io però 10 epiche i soldi ce li ho quindi tanto vale andiamo 10.000 vediamo cosa troviamo e 2 ah no ho trovato uno di fulmine bene o male mongolfiera e arco x è finita potevo comprare uno solo cosa ho sbloccato e si giusto cosa ho sbloccato ah già il fulmine il fulmine non l'avevo visto non pensavo di non averlo trovato pensavo che vabbè finisco qui è stata uno spacchettamento un po' deludente un po' come l'altro però questo qui abbiamo trovato un po' più di roba un po' più interessante però questa volta abbiamo anche esituto un combattimento in live no non lo guardo di nuovo se no non finisce più l'episodio comunque spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire i prossimi episodi di Clash Royale oppure di non lo so dovrebbe dovrebbe o già essere uscito oppure uscirà tra poco il DLC Dark Souls Ashes of Firehandle no nel canale non è già uscito ufficialmente ma nel canale uscirà tra pochissimo oppure è già uscito detto questo vi saluto ciao a tutti